Adesso voglio farvi vedere invece questo incontro del nostro Giuseppe col papà che stamattina a un certo punto dopo questo primo incontro con i giornalisti che ci ha raccontato la nostra Antonella, chiaramente loro non sono abituati ad avere questa diciamo mole di persone che arrivano, telecamere e quant'altro ecco dopo questo primo incontro il papà ha telefonato a Giuseppe si sono incontrati e questo è un estratto di quei momenti, guardate quindi non volevo essere di troppo, a un certo punto ho visto l'atmosfera di sé che ci scendo giù poi ritornerò domani No scusa non ti ho riconosciuto perché ieri è stato veramente, ma hai salvato il figliolo Tranquillo Hai salvato la sua vita Io è da ieri che penso infatti se poi ci puoi lasciare il tuo numero Tranquillo Per poi ritornare a trovarlo, quindi è più grande perché se non c'eri non avevi poi anche, mi è stato detto, se me lo puoi anche raccontare come è andata, perché mi è stato raccontato dai carabinieri come è andata, che hai sentito e hai cominciato a chiamarlo Nicola, Nicola quindi hai avuto proprio un'intelligenza, una sensibilità sia di orecchio che di cuore di sentirlo, di richiamarlo, lui allora ha risposto mamma e così è stato salvato quindi veramente gli hai salvato la vita, sei la persona più importante in una cornice di tutti hanno dato il meglio, hanno tutto l'apparato, tutte le persone singole tutti quanti si sono riuniti per cercarlo, però l'hai trovato te quindi Guarda, ti assicuro che è una gioia condivisa quella che stiamo vivendo quindi io ringrazio Scusa davvero perché prima volevo però da persona a persona perché conta questo al di là che sei un giornalista sei un uomo che ti ha salvato la vita, al mio figliolo Certo, come sta? Benissimo, stai bene Sei contento, siete felici? Sì Quello è l'importante Sì Adesso non vedi l'ora di stringerlo tra i tuoi bracci No, no, ma già l'abbiamo fatto Per passare del tempo con lui, quindi concentrati ora su di lui, sulla tua famiglia e abbiamo scritto un finale bello di questa storia No, quello è l'importante Basta, il resto sono chiacchiere Grazie Giuseppe, vengo da te perché poi mi hai raccontato che ti hanno chiesto di tornare da loro domani perché vogliono che tu passi del tempo col piccolo Nicola Sì, Leonardo, il papà mi ha detto proprio ora è anche tuo figliolo e quindi domani mattina avrebbero il piacere lui e la moglie di potermi far trascorrere un po' di tempo insieme al piccolo Nicola, alla famiglia a casa loro ed è un'emozione molto importante per me essere, come dire, parte di questa storia, di questa famiglia e di aver aiutato questa famiglia aver contribuito a ricongiungerli a farli ritrovare però mi ha anche detto di ringraziare tutto il programma il programma La Vita Indiretta e di ringraziare te per la delicatezza con il quale abbiamo trattato, soprattutto dopo il ritrovamento del piccolo Nicola, la storia e come stiamo trattando la storia della scomparsa e poi del ritrovamento del piccolo Nicola. È una famiglia che adesso ha ritrovato il figlio, ce l'ha a casa e loro vogliono viversi questo momento in privato, senza telecamere. senza il circo mediatico che si può creare quando una notizia del genere si diffonde e quando una notizia del genere viene raccontata. Certo, chiaramente questo però dobbiamo dire inevitabile quindi bisogna anche comprendere che c'è questa grande emozione collettiva, questa attenzione è qualcosa di incredibile quello che abbiamo raccontato, che tu hai vissuto quindi è chiaro che le persone vogliono partecipare certamente sono riflettori accesi per le prime ore, io penso che già dal fine settimana loro potranno tranquillamente vivere questo momento di ritrovarsi nella massima attività che noi naturalmente rispettiamo.